E' bellissimo perché nel frattempo c'ho Maroni in auto, questa è meta televisione, Maroni buon pomeriggio, dove sta andando? Vai nello studio della 7, dove sta andando? O il collegamento sarà tutto il tempo dall'automobile? No, 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 adesso finito, adesso arrivo, adesso arrivo. No, va bene, è meraviglioso, vuole salutare Marco Damilano? Saluto Marco Damilano, l'ho sentito. Eh, il quale ha appena detto che Salvini è scollegato dalla realtà, io sto semplificando, sintetizzo, sintetizzo. Sono d'accordo, non credo che cambierà la posizione. Cioè, scollegato dalla realtà, io l'avevo fatta un po' brutale. No, 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 non ho detto questo. No, però deve rappresentare più territori e meno... Sentiamo, sentiamo, Marco. No, il fatto è che oggi nel sondaggio che ho visto la Lega è il primo partito ancora e se il leader del primo partito è il leader del primo partito, perché dovrebbe cambiare posizione? Punto di domanda. Eh, e quindi va bene così? Eh, sì, finché rimane il leader del primo partito va bene così. Poi ha ragione da Milano quando dice in prospettiva, in prospettiva bisognerà cambiare, e io sono d'accordo, anche perché adesso la prospettiva è da qui al 2023, cioè due anni e mezzo. Che cosa succederà da qui al 2023? Cioè che opposizione fai da qui al 2023? È una lunga attraversata del deserto. E quindi sarebbe bene andare a essere più moderati, Maroni? No, più moderati. Bisogna parlare dei temi che interessano il mondo dell'economia e di quelli che verranno, insomma. Ho sentito che lui è ancora contro il MES. Io non credo che sia una posizione giusta, perché il MES sono più di 30 miliardi che verrebbero usati per la sanità, per il sistema di welfare e quindi perché buttarli via. Sì, poi certo, come andranno restituiti, a che condizioni, però io me li prenderei subito. Eh, no, Maroni ha detto che lei ha sentito dire praticamente, ma lei non lo sente mai Salvini? No, l'ho sentito ieri sera in trasmissione, in una trasmissione televisiva. Eh, no, dico, ma voi non li sentite mai al telefono, non li chiede mai un consiglio, una cosa. Cioè, per dire, quando l'ha sentito l'ultima volta? Eh, l'ultima volta l'ho sentito alla fine della campagna elettorale, gli ultimi giorni della campagna elettorale. Eh, poi dopo la, quando è finita, dopo i risultati, ma nel senso che lei ha preferito non chiamarlo? Ma no, ma siamo amici noi, dai, non mettete laggiù. Comunque, no, sono tre settimane che non vi sentite. Sono tre settimane, cioè uno chiama e dice guarda non ti preoccupare, andrà meglio la prossima volta. Qualcuno ha finito i giga di internet per scriversi, dai.